Il cuore, centro pulsante del corpo, libro della vita, al quale accostarsi con trepidazione e timore. Papa Francesco ha tratteggiato così il lavoro dei cardiologi nel suo intervento al Congresso Mondiale di Cardiologia alla Fiera di Roma. Ricordando che la Chiesa accompagna la ricerca scientifica, il Pontefice ha ribadito che essa si fa anche promotrice, perché quanto è dedicato all'effettivo bene della persona è pur sempre un'azione che proviene da Dio. L'apertura alla grazia di Dio, fatta tramite la fede e soggiunto, non ferisce la mente. Anzi, la spinge a una conoscenza della verità più ampia e utile per l'umanità. Lo scienziato, ha ricordato il Papa nella sua scoperta, non è neutrale. Mette una parte di sé, ma le sole scienze non bastano per comprendere il mistero di ogni persona. È fondamentale avere uno sguardo intenso verso i poveri e gli emarginati, perché anche a loro devono aggiungere le cure, l'assistenza e l'attenzione delle strutture sanitarie pubbliche e private. Si deve lottare, ha aggiunto Papa Francesco, perché non ci siano scartati. Guarire il corpo e scoprire le leggi del Creatore sono queste le sfide dello scienziato che, misurandosi con il grande mistero dell'esistenza umana concluso, non si deve lasciar vincere dalla tentazione di soffocare la verità.